La mancanza di personale all'interno degli ospedali è un argomento che sta interessando tutto il territorio nazionale. Una situazione su cui la ministra della difesa Elisabetta Trent ha annunciato dopo l'incontro a Campobasso che si sta esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali. Ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione e stiamo continuando a cercarla. Ma non è solo il Molise ovviamente a soffrire della carenza di camici bianchi in corsia e nei pronto soccorso. Il segretario nazionale del sindacato medico Anao Carlo Palermo fa i conti. Ad oggi se ne contano almeno 8.000 e meno rispetto al fabbisogno, di cui 2.000 proprio nei pronto soccorso. Un'emergenza presente da tempo ma che si aggraverà in questi mesi con le ferie del personale. Una condizione su cui la Asle di Teramo sta lavorando per illimitare al massimo la problematica. Noi stiamo tamponando anche con ricorso al lavoro a tempo determinato di medici, di alcune discipline. Per sopperire al problema Flery abbiamo ricorso dell'assunzione straordinaria nel periodo estivo, fin dove è possibile trovare le figure, come dicevo prima, le specializzazioni per tamponarle. Ecco, una novità è che possiamo far accedere ai bandi di concorso anche i specializzanti universitari e questa potrebbe essere una manna che viene data appunto per tamponare questa grave crisi che c'è nel reperimento di medici. Il Ministro Trent ha annunciato che il Governo sta anche pensando di mandare dove ci sono i problemi più grandi i medici militari. Certo, comunque c'è di positivo in questa notizia che oramai il problema è esploso anche a livello nazionale. Nell'ambito dei ministeri sono accorti che effettivamente c'è un problema di reperimento dei medici. Però a mio giudizio è bene questo tipo di soluzione, però dovrebbe essere l'estrema razio. anche perché diventa complicato l'inserimento di medici delle forze armate con quelli dei presidi ospedalieri. Però è una buona notizia che può dare anche un po' di respiro alle attività delle aziende sanitarie. Ma io quello che ritengo che secondo me va fatto è risolvere il problema a monte con le università nell'accesso sia per la laurea di medicina sia per le specializzazioni. Va trovata una soluzione governativa. Comunque il fatto che sia intervenuto questo a presi posizione del Ministro evidenzia che è la presa di coscienza di un grave problema che riguarda la sanità italiana.